Stamattina guarderemo un passo breve nella lettera di Giacomo, quindi se avete le vostre Bibbie vi invito ad aprirle alla lettera di Giacomo. Giacomo capitolo 1, vedremo alcuni versetti e il passo che vedremo insieme questa mattina nel tempo che abbiamo sarà utile per noi, credo in modo particolare perché ci permetterà di vedere noi stessi, di guardare noi stessi al rallentatore o alla moviola come fanno nel mondo, principalmente nel mondo sportivo, ci permetterà di rallentare il video e vedere cosa succede anche dietro le quinte nel momento della tentazione. E questo passo oggi, Dio volendo, sarà per noi come un allenatore che ci spiegherà attraverso i versetti, ci spiegherà i momenti che noi facciamo quando noi siamo tentati e quando pecchiamo, cose che noi non vediamo bene da noi senza questo aiuto esterno. Quindi la mia preghiera è che Dio possa utilizzare questo brano per noi, per scrutarci anche in vista del tempo della Santa Cena che avremo più tardi insieme questa mattina, ma vogliamo chiedere proprio la benedizione di Dio su questo tempo. Signore, questa parola è Tua, ti chiedo di aiutarci, ti chiedo di aiutare me nella spiegazione di quello che ho studiato e che possa essere chiaro, accurato e che noi possiamo trarre beneficio da quello che noi vediamo di noi stessi in questo brano. Nel nome di Gesù, Amen. In questi pochi versetti, alla fine sono pochi versetti, ma vedremo due concetti chiave, e ve li dico adesso sperando che siano proprio chiari anche quando andiamo via di qui. Il primo è che il primo concetto chiave è questo, il fatto che il desiderio che io sento di peccare nel momento della tentazione, quel desiderio viene da me stesso, viene da me stesso, quindi la colpa per il mio peccato è solamente mia. Questo è il primo concetto chiave che vedremo in questi versetti, il secondo è questo, i miei desideri sono ingannevoli, quindi non posso fidarmi di me stesso. Questi sono i due concetti chiave di questo brano, Giacomo 1, da 13 a 15, che adesso vediamo insieme. Qui è Giacomo, il fratellastro di Gesù, che sta scrivendo parole ispirate dallo Spirito Santo, quindi parola di Dio. E leggiamo dal versetto 13 al versetto 15 di questo primo capitolo. Giacomo 1, da 13 a 15. Nessuno, quando è tentato, dica, sono tentato da Dio, perché Dio non può essere tentato dal male, ed egli stesso non tenta nessuno. Invece, ognuno è tentato dalla propria concupiscenza che lo attrae e lo seduce. Poi, la concupiscenza, quando ha concepito, partorisce il peccato, e il peccato, quando è compiuto, produce la morte. Proprio nel primo versetto che abbiamo letto, c'è subito il primo concetto chiave che vi avevo annunciato all'inizio. L'affermazione è un'affermazione che si presta molto velocemente anche come applicazione. Usiamo spesso questa parola per chiederci come bisogna applicare la verità che abbiamo trovato, abbiamo trovato nella parola di Dio. E qui l'applicazione è molto diretta. Giacomo dice di non fare una certa cosa, non fare nel senso di non dire, ma sappiamo che quello che noi diciamo è legato strettamente a quello che noi pensiamo, quindi per estensione potremmo anche dire nel momento della tentazione nessuno dica, e per estensione nessuno pensi, sono tentato da Dio. Questo è un modo sbagliato di pensare, cioè dare la colpa, pensare che la colpa sia di Dio, la colpa per quello che sento, quel desiderio forte che sento nel momento della tentazione. Questa tendenza di voler scaricare la colpa, scaricare la responsabilità, gettare la colpa su altri, è un concetto che appartiene a noi esseri umani dall'inizio della storia. Se pensiamo a Genesi 3, il momento in cui c'è stata la caduta della razza umana, nel momento del peccato di Adamo e Eva, Adamo dà questa risposta quando Dio gli chiede, chi ti ha mostrato che eri nudo? Vi ricordate che prima della caduta erano nudi e non c'era vergogna? In un mondo senza peccato questo era possibile. Ma Dio dopo che loro hanno trasgredito, dopo che avevano peccato, Dio dice ad Adamo, chi ti ha mostrato che eri nudo? Quando è diventato un problema questo? Perché è diventato un problema? Hai forse mangiato, questo è Genesi 3, 11, se volete segnare il riferimento, hai forse mangiato del frutto dell'albero che ti avevo comandato di non mangiare? Questo è quello che Dio chiede. La risposta di Adamo è un classico, diremmo. Quando la sentiamo di nuovo stamattina, forse sorrireremo perché siamo consapevoli che noi lo facciamo probabilmente tutto il giorno, non ad alta voce necessariamente, ma tutto il giorno facciamo questo. L'uomo rispose, la donna che tu mi hai messo accanto. Sembrerebbe che lui stia scaricando la responsabilità su Eva, ma infine lo sta facendo, lo sta scaricando su Dio, sta dando la colpa a Dio. Adamo conosceva Dio, conosceva Eva, e per lui andava bene scaricare la colpa su tutti gli altri tranne lui. Essendo in tre, lui era per forza l'unico innocente. La donna che tu mi hai messo accanto è lei che mi ha dato del frutto dell'albero e io ne ho mangiato. Poi Dio parla con Eva e lei fa la stessa cosa. Perché hai fatto questo? Dicendo alla donna, lei risponde, il serpente mi ha ingannato. Quindi proprio dall'inizio noi facciamo così. Questo è come noi facciamo, noi esseri umani. Tornando a Giacomo, Giacomo ci dà prima questa affermazione, questo insegnamento, cioè di non dire, non pensare, nel momento della tentazione, sono tentato da Dio. E poi ci dà il motivo, il perché non dovremmo fare questo. E questo per gli uomini che hanno fatto il corso su come studiare la Bibbia, l'indizio, questa congiunzione, perché ci ricordiamo, ci sono due tipi, le congiunzioni dove prima c'è la motivazione e poi la conclusione, altre volte c'è prima l'affermazione e poi segue la motivazione, il motivo. E in questo caso è un perché che dà prima l'affermazione e poi ci spiega il perché. Qui abbiamo il perché nella seconda parte del versetto 13 perché Dio non può essere tentato dal male ed è Gli stesso non tenta nessuno. Qui voglio specificare una cosa per quanto riguarda le parole prove e tentazione. Le versioni in italiano rendono bene il senso di questi due concetti, quindi separano questi due concetti, la prova e la tentazione, ma in realtà queste due parole hanno la stessa parola radice. Alla fine provengono entrambi dalla stessa parola. Alcune versioni in altre lingue traducono in modo più letterale questa parola è questa parola in questo passo, quindi ti porta a chiedere qual è la differenza quindi fra una prova e una tentazione. se Dio non ci tenta perché non può essere tentato dal male non tenta nessuno però riconosciamo anche la sua sovranità sopra ogni cosa quindi anche sopra le nostre prove quando è che una prova è solo una prova e quando è che diventa una tentazione. Capite, sentite un po' questa questa tensione. Non ci fermeremo a lungo su questo punto ma vogliamo essere consapevoli della distinzione tra proprio questa prova e la tentazione. La tentazione qui parla proprio del desiderio che noi sentiamo internamente di peccare il desiderio di peccare quindi Giacomo sta dicendo che il desiderio di peccare non viene da Dio quello viene da noi ma allo stesso tempo affermiamo l'assoluta sovranità di Dio e ci dobbiamo anche chiedere ma Dio quindi cosa c'entra Dio con le prove? Sappiamo che la Bibbia non si contraddice quindi possiamo pensare a Romani 8, 28 che dice ora sappiamo che tutte le cose tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio i quali sono chiamati secondo il suo disegno e qui vogliamo ricordarci che il bene di cui sta parlando Paolo non è un bene materiale in questo mondo ma l'essere conformi a Cristo questo è il nostro bene questo è il bene del figlio di Dio quindi Romani 8, 28 dice che sappiamo Dio nella sua sovranità fa cooperare al nostro bene ogni cosa quindi ci chiediamo ma Dio è sovrano anche sulle nostre prove? c'è qualche persona qualche situazione nella nostra vita che è fuori il piano fuori la volontà di Dio c'è qualche dettaglio della nostra vita che è sfuggito a Dio al suo occhio alla sua mano la risposta è no Dio è sovrano sopra le prove però non tenta lui non ci non ci tenta a peccare quello viene da noi quindi quel desiderio non viene da Dio il desiderio di peccare che noi sentiamo viene da noi nessuno quando è tentato dica sono tentato da Dio perché Dio non può essere tentato dal male ed egli stesso non tenta nessuno c'è una seconda una seconda parte del motivo per cui non dovremmo pensare che siamo tentati da Dio la prima parte perché Dio non tenta non può essere tentato dal male e lui non tenta nessuno la seconda parte se ci chiediamo allora se non è Dio di chi è ma sicuramente è mia moglie forse è Satana ma sicuramente sono i fratelli in chiesa dovresti conoscerli il passo ci dice versetto 14 invece ognuno è tentato dalla propria concupiscenza concupiscenza immagino sia una parola che non usiamo tutti i giorni non dico a mia figlia Cristina Cristina ma questa tua concupiscenza non va bene sono l'unico che non utilizza questa parola voi la utilizzate ok grazie concupiscenza parla di desideri forti desiderio forte è usato diverse volte nella Bibbia e neanche tutte le volte parlano di desideri sbagliati c'erano se ho visto bene tre volte in cui parla di Gesù che ha un desiderio forte è la stessa parola quindi in se stessa non parla di desideri sbagliati ma parla proprio del fatto di un desiderio che è forte e questo è la fonte della nostra tentazione siamo noi stessi la nostra concupiscenza che attrae e seduce tornando di nuovo al fatto che Dio è sovrano sopra le nostre prove possiamo dirlo così le prove passano per la mano di Dio ma la tentazione di peccare viene da noi viene dai nostri desideri e farei notare che anche lì sul linguaggio che usiamo se le prove passano per la mano di Dio c'è anche un po' un dibattito sulla parola migliore per parlare del rapporto tra Dio e il male tra Dio e il peccato se lui permette solamente il peccato o se decreta ordina c'è tutta una buona discussione su quello però possiamo dire le prove passano per la mano di Dio le prove vengono da Dio nella sua sovranità ma il desiderio di peccare la tentazione di peccare quel desiderio viene da noi viene dai nostri desideri MacArthur parafrasando lui dice non solo non possiamo dare la colpa a Dio per il nostro desiderio di peccare ma non dovremmo darla a nessuno a nessun altro se non a noi stessi questa è la conclusione la verità e l'affermazione che vogliamo con l'aiuto di Dio far entrare nel nostro cervello stamattina nel nostro cuore il problema non è fuori di noi il problema è dentro è dentro di noi quindi Giacomo dice di non dare la colpa a Dio quando senti il desiderio di peccare il motivo Dio non può essere tentato dal male non solo non viene da Dio questo desiderio di peccare ma non viene da nessun altro proprio viene proprio da noi stessi e quando parliamo di desideri è facile pensare ad alcuni esempi un po' classici pensiamo all'esempio probabilmente usato troppo nella predicazione due bambini che giocano insieme uno vuole giocatolo e lui ha quel desiderio o magari nel mondo adulto o il mondo degli adulti una persona vuole un dolce può essere un biscotto una ciambella non so qual è la tua la tua medicina o la tua preferenza hai un desiderio per quell'oggetto cominci a desiderarlo e questi vanno bene come esempi ma il peccato è molto insidioso e questo quello che noi stiamo leggendo in questo passo il fatto che la nostra concupiscenza attrae e seduce questo sta succedendo dietro le quinte in modo continuo quando siamo tentati di peccare quindi vogliamo considerare alcuni esempi riconoscendo che quando siamo tentati di peccare c'è un desiderio dietro questo è ciò che il testo dice quando sento il desiderio di peccare c'è un desiderio dietro per esempio il desiderio per la tranquillità voglio stare tranquillo in casa non voglio essere disturbato dai figli quindi gestisco male le situazioni in casa ignoro i figli fino a un certo punto e poi mi arrabbio per farli smettere così torno ad avere un po' di tranquillità questo è un desiderio dietro a un peccato voglio essere visto bene da altri quindi non voglio essere messo in imbarazzo dai miei figli in un luogo pubblico quindi gli do tutto quello che mi chiedono voglio quello che voglio non voglio essere contrastato da altri neanche privato di qualcosa che desidero quindi tratto in modo duro chi mi contrasta o chi potrebbe privarmi della cosa che voglio e questo è anche un modo di manipolare le persone nella nostra durezza nella nostra rabbia anche voglio sentirmi bene è sbagliato voler sentirsi bene abbiamo tutti paura di rispondere voglio sentirmi bene voglio evitare il rischio di essere ferito quindi non mi apro il muro biblico a un fratello non stabilisco il rapporto di trasparenza in cui possiamo parlare del nostro peccato un rapporto dove possiamo essere onesti non voglio voglio stare bene non voglio dover abbandonare un comportamento peccaminoso quindi dico le bugie non voglio essere ripreso da altri quindi non affronto il peccato che è vero in loro non voglio correre il rischio di perdere il rapporto di amicizia non voglio avere una conversazione scomoda quindi non affronto il peccato che è vero in altri cominciate a vedere i desideri che stanno dietro voglio la tranquillità con mia moglie non voglio che lei si arabbi con me quindi non la guido come dovrei ho la moglie voglio che mio marito mi tratti in un certo modo e quando non lo fa gli rifiuto il rapporto intimo di nuovo manipolazione voglio stare bene non voglio stare da solo o da sola tutta la vita quindi mi metto con un non credente voglio avere un ragazzo non voglio perderlo quindi non gli rifiuto il rapporto sessuale quando me lo chiede voglio il piacere sessuale adesso non voglio aspettare il matrimonio quindi guardo la pornografia voglio stare bene finanziariamente quindi cerco di evitare di pagare le tasse voglio una vita facile non voglio affaticarmi per vivere in moro santo quindi convivo con piccoli peccati questo è un po' potremmo stare qui tutta la mattina a fare esempi ma ho cercato di pensare a fare alcuni esempi che ci possono aiutare nel nostro vedere i desideri che si trovano dietro i nostri peccati Giacomo dice che questi nostri desideri da questi nostri desideri siamo attirati e siamo sedotti qui utilizza questa parola lo seduce e vedremo il significato di questa parola ma queste due parole insieme attirati e serotti attirati parla del mondo della caccia il fatto di attirare la preda e devo confessare questo per me è un mondo sconosciutissimo conosco giusto qualcuno che specialmente nei Stati Uniti che proprio respira in modo letterale la caccia per darvi un esempio o un'idea la scuola superiore che ho fatto io il primo giorno di caccia ai cervi ogni anno era un giorno festivo non si andava a scuola io ero contento così dormivo ma non sono mai andato a caccia giusto giusto per i gusti quindi ho fatto qualche ricerca veloce anche per il beneficio mio questo questo primo lo sapevo ma per i cervi sapete cosa si utilizza per attirare i cervi l'urina i cervi hanno un senso il naso molto forte sentono l'urina o l'urina di un altro maschio e vanno a indagare o nel momento giusto dell'anno l'urina il profumo dell'urina della femmina ovviamente capite due più due fanno sempre quattro vanno lì quindi per i cervi l'urina esistono anche spray non l'ho mai fatto per i tacchini esiste una specie di chiamata esistono persone che siano in grado di farlo proprio con non so con le mani con la bocca se non sei in grado di farlo puoi comprare questo è un aggeggio che tu come un fischio lo fischi e fa questa chiamata sembra che sia un tacchino femmina sarebbe una tacchina non credo comunque un tacchino femmina che stia chiamando sta cercando il suo amore e arrivano tutti i maschi e diventano preda cinghiali si può fare un foraggiamento di addescamento si chiama una costante offerta di piccole quantità di cibo ho letto questo su un sito internet messo a disposizione in un determinato luogo e loro cominciano ad abituarsi al fatto e questo anche con i cervi ho visto che questo funziona quindi quest'idea di attirare la preda qualcosa viene fatto che è così che attira così tanto che l'animale in questo caso è disposto ad ad esporsi a fare una cosa che non dovrebbe fare andare in un posto dove non dovrebbe andare un posto non sicuro un posto dove lui è esposto ai pericoli per il premio che vede stessa cosa con questa seconda parola che qui troviamo tradotta seduce nella nuova Diodati viene tradotto addescato l'idea di un esca nel mondo della pesca o pesca pesca io credo fino alla mia morte pesca e pesca non dirò mai il modo giusto però il nostro amico fratello Claudio questo è anche un mondo sconosciuto sarò andato un paio di volte con mio padre da bambino adesso cerco di non farmi del male però l'idea con un esca adesso vabbè questi sono legati l'idea di un esca è di nuovo far sembrare così buono quello che il pesce in questo caso il pesce vede che anche lui è disposto ad andare dove non dovrebbe andare fare qualcosa che non dovrebbe fare per la gratificazione immediata di un pasto preparato pasto pronto e significa la sua la sua morte e immagino da quello che ho visto nel mondo delle esche esistono tutti i tipi studiati chi fa chi fa i suoi sono fatti in moro per nascondere la parte letale questi aghi si chiamano aghi ami io amo tutto fatto per nascondere questi ami e far arrivare il pesce lì far arrivare il pesce a inghiottire questo che è la sua morte la sua fine e queste funzionano quando c'è questo desiderio dentro l'animale dentro il pesce questi desideri tornando a Giacomo sono cose piacevoli ma proprio come è vero anche in questo caso i nostri desideri promettono ciò che non possono dare ecco sono riuscito a slegarli i nostri desideri come queste queste esche promettono ciò che non possono dare e non ti dicono la fine che farai vedi semplicemente wow qualcosa di metallo qualcosa che che brilla fa luce e perdi la testa sicuramente per noi che siamo più grandi quando sentiamo la parola seduzione pensiamo a un uomo che viene sedotto lui perde la testa lui non non ragiona più non vede più il futuro vede solo i prossimi 5-10-15 minuti con quella donna non vede il danno sul suo matrimonio ai suoi figli se fosse in grado di fermare fare pausa fare un passo indietro e ragionare su questo cambierebbe ma nel momento dell'essere sedotti non si ragiona più così pensiamo solo all'essere gratificati adesso c'è un passo in proverbi che parla della seduzione letteralmente di una di un ragazzo semplice e utilizza l'immagine di un animale che viene catturato se volete proverbi 7 volevo farvi vedere questo passo proverbi 7 non leggo tutto il capitolo proverbi 7 leggo alcuni versetti ma voglio mostrarvi questo versetto 4 dia la sapienza tu sei mia sorella e chiama e chiama l'intelligenza amica tua affinché ti preservino dalla donna altrui dall'estranea che usa parole seducenti ero alla finestra della mia casa dietro alla mia persiana e stavo guardando vidi tra i sciocchi scorsi tra i giovani un ragazzo privo di senno che passava per la strada presso l'angolo dove essa abitava più avanti versetto 10 dice ecco fargli si incontro una donna in abito da prostituta e astuta di cuore turbolente e proterva che non teneva piede in casa versetto 13 essa lo prese lo baciò e sfacciatamente gli disse dovevo fare un sacrificio di riconoscenza oggi ho sciolto i miei voti se mi ricordo bene questo significherebbe parlerebbe del sacrificio alla fine del ciclo della donna quindi lei poteva tornare ad avere rapporti sessuali quindi credo sia questo il senso magari sembra una frase un po' strana fuori posto ma questo credo sia il senso di questa frase oggi ho sciolto i miei voti perciò ti sono venuta incontro per cercarti e ti ho trovato questa è la bugia specialmente nel mondo sessuale nel mondo della tentazione sessuale la pornografia il maschio arriva o chi chi è vittima arriva a credere che quell'immagine quella quella persona in quelle immagini sono lì per te e questo lo vediamo anche qui lei non è venuta a cercare lui però lo dice versetto 21 lei per fare prima versetto 21 lei lo sedusse con le sue molte lusinghe lo trascinò con la dolcezza delle sue labbra quindi di nuovo quest'idea della seduzione credo sia lo stesso discorso del mondo della caccia della pesca sedusse con le sue molte lusinghe quindi di nuovo quest'esca lo trascinò con la dolcezza delle sue labbra egli le andò dietro subito versetto 22 come un bue va al macello come uno stoto e condotto ai ciepi che lo castiglieranno come un uccello si affretta al laccio senza sapere che è teso contro la sua vita finché una freccia gli trapassi il fegato possiamo tornare a Giacomo questo comunque è un capitolo molto interessante che ha lo spiega in questo modo i desideri la seduzione che portano a quella quella fine la morte i desideri di nuovo sono cose piacevoli ma promettono come abbiamo detto ciò che non possono dare non dicono la fine che farai quindi ci mentiscono ci dicono bugie sono ingannevoli questo viene da noi quindi la conclusione il secondo concetto chiave di questa idea è che noi non possiamo fidarci di noi stessi perché siamo attirati siamo sedotti dai nostri stessi desideri il nemico è dentro di noi questo senso dovremmo essere molto molto sospettosi nei nostri confronti dovremmo dubitare di noi stessi dietro ogni peccato c'è c'è un desiderio questi desideri non portano alla vita MacArthur dice in questo capitolo di Giacomo Giacomo fa la distinzione nel versetto precedente versetto 12 beato l'uomo che sopporta la prova perché dopo averla superata riceverà la corona della vita quindi per chi supera la prova la vita chi invece va dietro ai desideri la morte poi si passa dall'immagine della caccia delle esche per fare un'altra immagine una un po' più universale magari noi non tutti andiamo a caccia o andiamo a pescare però l'idea è di una gravidanza siamo tutti nati quindi fino a un certo punto possiamo meritare su questo una gravidanza dietro ogni peccato c'è un desiderio e ogni desiderio è un potenziale peccato c'è qui questo versetto 15 dopo che lo attrae lo seduce poi la concupiscenza quando ha concepito partorisce il peccato e il peccato quando è compiuto produce la morte sappiamo da altri brani nella scrittura che siamo chiamati a mettere a morte le opere della carne Colossesi 3 per esempio è un passo molto utile su questo però l'idea di concepire quando la concupiscenza concepisce succede perché noi non mettiamo a morte quel desiderio non lo sottomettiamo a Dio lo lasciamo vivere e si arriva al concepimento quindi in questo modo noi siamo noi stessi a contribuire al concepimento potremmo dire ogni volta che pecchiamo congratulazioni sei papà di nuovo hai partorito o hai contribuito al parto di un altro peccato noi contribuiamo al concepimento sentiamo un desiderio non lo mettiamo a morte non lo sottomettiamo a Dio ma decidiamo di cercare la nostra gloria decidiamo di cercare la soddisfazione in qualcosa che è fuori di Dio fuori il suo piano e viene concepito e poi viene partorito un peccato e a volte questo è molto lento come potrebbe essere magari pensiamo a una situazione dove conosci una persona sei sposato conosci una persona cominci a provare un desiderio per quella persona e sta lì sta lì potremmo dire in pentola e sta bollendo per diverso tempo e dopo un po' è solo una questione del quando ma c'è del tempo possiamo pensare a altre situazioni altre situazioni dove magari l'esempio che ho fatto prima quando io reagisco male verso i miei figli sto sempre rispondendo a un desiderio però succede molto velocemente molto velocemente ed è per questo che ci è utile vederlo al rallentatore il peccato compiuto ha come risultato la morte e di quale morte sta parlando beh possiamo affermare che ogni peccato porta la morte e la separazione di Dio ma è anche vero che un figlio di Dio è stato perdonato McCarton nel suo commentario fa notare i casi menzionati in prima Corinzi 11 il passo che leggiamo prima della Santa Cena persone che erano morte della morte fisica credenti morti perché partecipavano in modo indegno alla Santa Cena dice chi mangia e beve mangia e beve un giudizio contro se stesso se non discerne il corpo del Signore per questo motivo molti fra voi sono infermi malati e parecchi muoiono quindi potrebbe parlare anche di questo io aggiungerei pensando al tema di Giacomo della vera fede la vera fede che viene mostrata con l'ubidienza che chi persevera nel peccato come dice Giovanni in prima Giovanni questo farebbe pensare a chi persevera nel peccato si sta rivelando come non credente Giacomo dirà che la vera fede si vede nelle opere possiamo dire siamo giustificati solo per fede ma non da una fede che rimane sola che ci sia ubbidienza nella vita del vero figlio di Dio quali sono alcuni pensieri conclusivi possiamo affermare pensando a questo passo per gli amici non credenti i nostri ospiti presenti stamattina vi invitiamo a riconoscere il vostro peccato e qui parla in modo molto chiaro la fine del peccato e la morte riconoscere come questo passo ha mostrato il problema è in voi è in te e la soluzione invece non è in te non è in voi avete bisogno di un salvatore avete bisogno di essere perdonati non in base al vostro merito ma in base al merito di Cristo anche per i credenti alcuni pensieri quando noi pecchiamo la responsabilità è nostra accettiamo questo fatto riconosciamo questo fatto i nostri desideri sono attraenti ma non dicono la verità quindi non dobbiamo fidarci di noi stessi dobbiamo avere un atteggiamento di mettere in dubbio quello che noi sentiamo e cosa dobbiamo fare con questi desideri con i quali siamo bombardati tutto il giorno beh siamo chiamati a mettere a morte il peccato MacArthur dice se mai c'è un caso in cui dovremmo troncarlo sul nascere sarebbe per quanto riguarda il peccato anzi se lo prendiamo in modo letterale ancora prima sul nascere proprio prima del concepimento mettere a morte i nostri desideri mortificare come dicevo in Colossesi 3 un predicatore dice inizi ammettendo che il peccato è peccato usa parole dalla Bibbia usa termini biblici Colossesi 3 5 magari volete segnare questo riferimento fate dunque morire ciò che in voi è terreno fornicazione impurità passioni desideri cattivi cupidigia che idolatria lui dice non parlare di priorità sbagliate parla di idolatria utilizzate usa parole bibliche e vedere il peccato per quello che è alla presenza di Dio versetto seguente Colossesi 3 6 per queste cose viene l'ira di Dio sui uomini ribelli rigettiamo questa convinzione che a Dio non importa un piccolo peccato mettere a morte rifiutare non alimentare non diamo da mangiare ai nostri desideri non alimentiamo come la legna per un fuoco rifiutiamo non si può diceva un predicatore non si può uccidere il peccato senza sentire il dolore dell'uccisione del peccato è un atto violento in conclusione vi voglio leggere una citazione da un commentario il commentario è di John MacArthur ma la citazione è di un puritano Richard Baxter che scriveva trattate il peccato come esso tratta voi non abbiate pietà poiché esso non ne avrà il vostro assassino è l'assassino del mondo trattatelo quindi come si tratta un assassino uccidetelo prima che esso uccida voi questo è l'atteggiamento di serietà dobbiamo avere verso il nostro peccato è anche vero che serve discernimento con i nostri desideri alcuni sono leciti però rischiano di essere eccessivi forse sono diventati idoli ricordiamo le parole di Paolo lui dice io tratto duramente il mio corpo un desiderio lecito può molto velocemente iniziare ad essere un desiderio che è sbagliato perché ha preso troppa priorità come diceva potrebbe anche una cosa buona diventa una cosa cattiva quando inizia a dominare o regnare o domare la realtà è che i nostri desideri se serviti pienamente portano alla morte quindi sviluppiamo l'abitudine di fermarci nel momento della tentazione e riflettere su questo che se io vivo fino in fondo questo desiderio porterà alla morte questa è la la serietà e questo ci porta a meritare sul fatto che il nostro peccato ha portato qualcuno alla morte il nostro peccato ha portato Cristo alla morte e stamattina rifletteremo di nuovo su questo noi credenti abbiamo bisogno di un salvatore qualcuno che ci salvi da noi stessi il problema è in noi la soluzione non è in noi e Gesù l'ha fatto morendo al posto nostro ricevendo al posto nostro l'ira di Dio e questo ci deve umiliare ci deve spezzare il cuore anche per quanto riguarda la serietà verso il peccato i Romani 7 concludono con questo un passo che andrebbe studiato molto con calma ma esprime l'attenzione che il credente sente Romani 7 15 dice poiché ciò che faccio io non lo capisco infatti non faccio quello che voglio ma faccio quello che odio difatti io so che in me questo è il versetto 18 cioè nella mia carne non abita alcun bene poiché in me si trova il volere ma il modo di compiere il bene no me infelice chi mi libererà da questo corpo di morte grazie siano rese a Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore questo è l'atteggiamento del credente in questo momento riflettendo sul fatto che il nostro peccato ha portato uno alla morte ed era Gesù Cristo preghiamo Signore grazie per questi pochi versetti ti prego che ci possono essere di aiuto nel momento della della tentazione di riconoscere prima di tutto che la colpa per il nostro peccato è solamente nostra e riconoscendo anche che i nostri desideri sono ingannevoli e dovremmo sospettare di quello che noi pensiamo di volere aiutaci in questo aiutaci a rallentare a considerare queste cose aiutaci a sfruttare ogni cosa anche nel nostro cuore con l'aiuto del tuo spirito della tua parola nel nome di Gesù Amen